Ragazzi è finita la missione, adesso faccio un po' di raccoglie, raccoglie, esame, cazzo adesso Fruga, li frugo tutti quelli che ucciso, li frugo sempre Sono morto che cammina ha detto, sono tubercolosi Questo qua, fruga, 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 dai, cinella, cavro, cinella, 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 questi qua li ho già ripassati Andiamo a vedere, ma è una sacratica Cosa c'è qua? Esamina, dai, mica, con quelle bacche Uff, spagualloso Fruga, prendi, 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 che cosa? Fruga Ragazzi, dai Se vi è piaciuto il video che ho fatto, le missioni, le missioni ho fatto, dai Quante cazzo li ho ucciso? Li hanno ucciso una ventina Cosa c'erà? Cosa c'erà? Tutto stima Minchia, ho rotto anche il primo pallone americano Minchia Fluga, 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 fluga Ecco Pensavo che era la missione ignorante Infatti era la missione ignorante, cazzo Ancora prendo fuoco Fuoco e fiamme, fuoco e fiamme, fuoco e fiamme Un grado di battaglia Oh, a me mi servono soldi Vado a vedere Mi piace Uh, cinghiale, 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 che cazzo Ah, vaffanculo, mi quasi tutto inceppa Uff, vedo la figlia Oh, la camera è morta Mettila a via, cazzo Minchia No Minchia, sono spamballoso Un po' questi Eeeh, vediamo un po' cosa ho trovato qua Cazzo, ora che cazzo ho trovato Questi figli di puttana che bruciano Li dovrebbero Tutti uccidere E non mi cambiano, uccidono tutti, cazzo Capito che cazzo sono questi qua Chi sono questi qua Mascherati Li conoscete voi? Li conoscete? Vieni di puttana cazzo E così Volisco per la tesera Se non arriverà il dottore come un GTA E li riammina Tipo Frankstein O Frankstein O Frankstein Stein Stein Che si E sto cazzo Vediamo se è il bai come la casa in Sardegna Li rompe mi cartellone Bucca 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 le bucca le bucca le Mica non li bucca le rompe Cazzo Onkel Che cazzo fa' Eh, mica li vuoi solo buccare Cazzo Ma qua è l'accampamento Che cazzo è l'accampamento Vediamo qua l'accampamento E' l'accampamento Così bello Ho buttato una TNT Ma qua c'era qualcosa L'ho visto qua sopra Cosa c'era qua sopra? Cosa c'era qua sopra? Cosa c'era qua sopra? Grazie. 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 Dai, spucciala. No, scuoglila, spucciala. Spucciala, preda. Spucciala, spucciala, spucciala. Eh, fuori ha. Ma, ma è strano che lui non mangi. Pocetti. Cosaccia. Mangia una mela. Hai una pesca. apoi raffa carica benvenuta la nuova puntata di faccia quello che mi dice il gioco dovrei andare adesso in quella imbarcazione dall'altra parte dell'isola per liberare ciò giuntilo di muso cazzo minca la tona potrebbe anche aiutare ogni tanto minca questo qua è un casino penso a un casino penitenziario se poi non lo fatti vedere scusate ma io con sono paranoico due o tre volte l'accesso a Arno non lo fatti vedere No, ce l'ho già qui, voce. Devo prendere per forza il fucile, anche se ce l'ho. No, ce l'ho. No, ce l'ho. No, non lascio il mio fucile qua. E' vecchio, già si vede. Ma non si vedeva da tutto? No. 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 Ok. Questa è una missione che dovete assolutamente vedere. o compratemi il gioco giocate micidiale micidiale cazzo diceva micidiale sentendo lo swappo è però veloce però è lento mi piace giochi lenti io ho dei giochi lenti così trasportare fino a lì e la dentro cazzo lo dovrebbero essere così un orcio suspense non particolarmente lo scopriremo presto sì sì se lo sparano magari lo sparano lo stesso spiorno sceriffo non per la destra tanto lo sparano e mi tocca fare un casino un ostaggio preso ho preso un ostaggio un poliziotto ostaggio e mi piace mi piace mi piace mi piace questi giochi mi piacciono troppo però mi piace sempre la storia a me è l'internet che mi piace tanto giocare in internet solamente è bello è molto più immaginario fa molte più cose la storia finisce il resto 12 13 più veloce scusat si scassi 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 ma il culo qua cazzo non c'è calca puttana trova oh des puttate club nel 1844 non voglio morire non voglio morire sto scendendo perché l'avrò arrestato non lo ricordano non voglio morire non mi aiuta nessuno se non mi sparo io non mi spara nessuno non mi spara nessuno Grazie a tutti. E' lentissimo a sparare, è una cosa allucinante, cazzo. Meno male che c'è due pistole morca, avuta la droga. Va bene la musica, eh. Mi hanno ucciso. Io volevo rilasciarla della mente, cazzo. Sei morto. Mi provo dall'ultimo, c'è capo. I gangami ci mi hanno lasciato lì, cazzo. No, da qua. Va bene la musica. No, da qua. No. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, prima di... Quando abbiamo fatto la missione... dobbiamo prendere la nave... John... si è fatto arrestare... qua... insomma... va bene... la missione... la missione... questa è la... 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 perché adesso abbiamo tutti gli ispiri alle calcagne e li impicheranno tutti, questo qua è malato, c'è la tubercolosi, il lupo, che cazzo fa il lupo? Eh minchia, è molto bello, è lungo, mi piace perché è lungo, è un capetto di malattia che cazzo, mi piace perché con la storia del cavallo deve andare piano, invece il GTA, mica troppo veloce il GTA, finirlo in due giorni, a parte non sta bene, minchia ma scoppa a te l'aula, ma se mi ce la vado a dare da cordaio, cosa sminx ficca nel cazzo, corval, corval, corval d'accordo, minchia non mandano sempre a fare missioni del cazzo, porca puttana